Le segnalazioni inoltrate agli uffici competenti del consigliere comunale di Davvero Verdi Antonio Carbonaro sono state fatte il 9 gennaio scorso, l'8 giugno e per ultima venerdì. Oggetto la ripultura del torrente Marziello nel tratto di via Guido Martuscelli a Torrione Alto a Salerno. Il torrente Marziello nasce a quota 349 metri sul livello del mare nel versante meridionale del Colle di Masso della Signora e dopo aver attraversato la tangenziale di Salerno a valle del quartiere di Sala Bagnano viene intubato nel tratto urbano in prossimità dell'area della caserma cavalleggia di guida. L'elemento che caratterizza il torrente dal punto di vista morfologico è l'elevata pendenza sia dell'alveo che dei versanti soprattutto per quanto riguarda il tratto di monte che lo rende potenzialmente pericoloso. Questo insieme ad altri piccoli corsi d'acqua da attenzionare che attraversano la città di Salerno che in previsione delle piogge invernali e considerando i recenti tragici episodi il riferimento è la sciagura di Albanella dove il torrente malnome ha causato la morte della 26enne Desiree Quagliarella dovrebbero essere ripuliti, dice sempre il consigliere comunale Carbonaro che non è stato l'unico a sollecitare interventi del genere. Richieste per quanto riguarda il Marziello sono state inoltrate al comune dall'amministratore del condominio che è a fianco del torrente che prima di scomparire per una cinquantina di metri costeggia oltre alle abitazioni il liceo De Santis. Nessuno può dire quale sia il rischio concreto che può rappresentare questo corso d'acqua ma di certo per le condizioni morfologiche e meteo cambiate negli ultimi anni e per le tragedie ricorrenti di questi ultimi tempi ha bisogno di un'azione preventiva di pulizia. La vegetazione, come si può vedere, ha ormai invaso gran parte del letto del torrente e non si può escludere che in caso di piogge importanti il materiale che potrebbe colare dalla collina da cui nasce insieme a quello che l'acqua troverebbe sul suo percorso potrebbe creare un imbuto pericoloso.